Ludovico Ariosto nasce a Reggio Emilia l'8 settembre 1474. Sua madre Daria è una nobile donna. Suo padre Niccolò è comandante dell'esercito Estense. Nel 1484 la sua famiglia si trasferisce a Ferrara. Ludovico studia giurisprudenza senza successo e si appassiona alla letteratura. Nel 1500 dopo la morte improvvisa del padre si ritrova costretto a mantenere la famiglia. Accetta un incarico da capitano della Rocca di Canossa e inizia la sua carriera a corte. Immaginate un poeta cioè un uomo che sogna soltanto di scrivere, di imparare il greco, il caldeo cioè l'aramaico e che invece la vita costringe a fare i conti con la realtà. Per Ariosto significa da giovane avere nove fratelli a cui badare, poi diversi figli da diverse mogli e poi ancora protettori intransigenti che lo spediscono in missione. Lui che sogna semplicemente una stanzetta tutta per sé e qualche rapa a pranzo o a cena. Ecco Ariosto il poeta costretto dalla vita a fare il commissario o il cavallare. E' quel che racconta Ariosto stesso in quella specie di diario pubblico, capolavoro di ironia malinconica che è la raccolta delle satire. Un genere antico ripreso da Orazio che per otto anni, cioè tra il 1517 e il 1525, il poeta sfrutta per sfogarsi e raccontarsi alle prese col freddo, gli impegni, le scadenze. E' un uomo come il cardinale Ippolito, il superiore più rozzo e insensibile che gli potesse capitare. Dal 1503 è alle dirette dipendenze del cardinale Ippolito d'Este. Svolge funzioni diplomatiche, scrive le opere teatrali Cassaria e Suppositi. Intorno al 1505 inizia la prima stesura del poema Orlando Furioso, che viene stampato 11 anni più tardi. Reazioni del cardinale Ippolito d'Este all'ascolto degli immortali versi di Ludovico Ariosto. Reazione numero uno. Messer Ludovico, dove avete pigliato tante coglionerie? Reazione numero due. I vostri versi potete mandarli al Culisseo. Lo stesso anno muore Ercole I d'Este. Nel 1517 il cardinale Ippolito è nominato vescovo a Buda, in Ungheria. Ariosto rifiuta di seguirlo. Il suo nuovo protettore, il duca Alfonso, lo nomina commissario in Garfagnana nel 1522. Ariosto fa parte di una nobiltà di basso rango e quindi è costretto a prestare servizi alla corte e questi servizi entrano molto presto in conflitto con la sua passione letteraria, anche se lui scrive un poema che è destinato ad esaltare le glorie degli stessi estensi, non ha quella ricezione così che lui spera fino in fondo. Per cui sorgono i conflitti col cardinale Ippolito d'Este, di cui lascia il servizio e dopo qualche mese entra invece al servizio del duca Alfonso, che però lo costringe a tanti viaggi anche pericolosi, anche nei conflitti tra Ferrara e il papato di Roma. E poi a un certo punto gli assegna questo governatorato nella regione proprio impervia, frequentata quasi soltanto da banditi, come dice lui che allora era la Garfagnana e quindi per due anni Ariosto è costretto a svolgere questa funzione e la svolge con grande rigore e grande serietà.